E ha difeso alla grande, poi nel rimbalzo però viene fuori Ellis che arma la mano di Alviti, tripla di Alviti A pallizzare dentro l'ara, costretto a uscire, cerca la linea di fondo, poi lo scarico per Junior che non riesce a chiudere Alviti con il rimbalzo, con il controllo del perno, con i due punti Palone sotto, allora su Doma che si svita, cerca poi nell'angolo qualcuno che non c'è In qualche maniera Alviti se la ritrova, non ci pensa, altra tripla Blocca Udoma che poi si apre per ricevere, palleggia Udoma, ribalta su Alviti, tiro complicatissimo Mamma mia non aveva niente qui Alviti Serata d'altra parte, Morris sbaglia da sotto, Udoma veloce per Alviti, da dietro Sneed si protegge Alviti 21 Udoma Udoma veloce per Alviti Udoma veloce per Alviti Udoma veloce per Alviti Udoma veloce